Ciao a tutti amici e bentornati in questo nuovissimo video, quanto quanto tempo, benvenuti! Innanzitutto scusate per tutta questa assenza, mi stavo morendo il telefono, solo che sono con le dita incrociate che spero che mi faccia pubblicare questo video perché non me lo ha fatto fare per un po', non me lo ha fatto pubblicare nessun video per un po' di tempo e quindi ero tipo, oh mio dio, e dopo un po' c'è perso la speranza, quindi speriamo che in questo a meno me lo faccia pubblicare sto usando il vecchio telefono perché mi sono comprato un nuovo telefono, quindi niente, questo non lo voglio spiegare come credo avete letto il titolo, ci sarà un tutorial di come avere l'emoji dell'iPhone su Huawei ripeto, Huawei su Samsung no, non funzionerà, quindi mi dispiace perché è un Samsung, direttamente non ve lo guardate perché non potrebbe servirvi a niente Iniziamo! Primo passo sarebbe quello di andare su Play Store e installare Temi Huawei vi affaccerà questa applicazione che io ho già installato e ve la installerete appunto e qua ve la faccerà Andate su questa applicazione, qua ci saranno tutti i spawn, tutti i caratteri se volete Comunque è un'applicazione abbastanza utile, non solo per l'emoji ma per altro Ma per ora non ci interessa, andiamo su Emoji Ok, no, scusate E andiamo giù giù e dobbiamo installare iOS 12 Io già l'ho installata ma comunque nella tendina qua sotto vi dovrebbe affacciare appunto iOS 12 E vi stangerà, e ne sono sicura perché io neanche due orette che ne ho fatto E niente, innanzitutto prima di passare a oltre vi faccio vedere che funziona Quindi andiamo su Instagram e clicchiamo su una cosa per scrivere Ok, guardate Come vedete non sono su queste che mi appare tra i consigliati Come vedete funziona veramente E non solo con queste più utilizzate ma con tutte queste, con i cuori Io adoro più i cuori di tutti Tutte le cose sono stupende, io le adoro Quindi dopo aver installato questo tema andiamo su temi che troverete di sicuro E quindi cercatelo per chissà, non lo trovate Dove, qua, ignora, scusate, la pubblicità E poi andate su personalizzate, non so se lo vedete perché sto utilizzando il flash E poi su i miei stili di testo E andate appunto ad applicare questo Ok, io già ho applicato come avete visto Vi volevo dire che questo metodo non funziona solamente con Whatsapp Con Whatsapp non vi funzionerà Mi dispiace molto anche per me Ma se volete il tutorial di come avrei Whatsapp su Android e dell'Apple Ditemelo Però devo trovare la cosa giusta perché Fino a questo pomeriggio ho cercato di utilizzarlo pure io Ma mi diceva una così tipo di aggiornamento E niente, spero che questo video vi sia piaciuto Spero soprattutto che riesca a pubblicarlo Lasciate un pollicino in su Come al solito raggiungiamo i 6 like per il ritorno Sperando sempre che me lo fanno pubblicare E niente, baci!